E' una comunità sconvolta, quella di Stilo, che poche ore fa ha appreso della tragica scomparsa di Maria Giovanna Scrivo. La 24enne è deceduta a seguito di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Pazzano, nella strada che collega il piccolo centro della vallata con il comune di Stilo, lungo la ex statale 110, in prossimità di una curva. Stando alle prime informazioni ottenute grazie ai rilievi dei carabinieri della compagnia di roccella ionica e di Stilo, immediatamente giunti sul luogo dell'impatto, la giovane era alla guida della sua vettura a una Ford Fiesta, quando per cause ancora del tutto da chiarire ha perso il controllo del veicolo, andando a sbattere contro il guardrail e precipitando poi per oltre 10 metri nel diruppo sottostante. Dai primi accertamenti pare che il decesso di Maria Giovanna sia stato pressocchè istantaneo. Sarebbero stati alcuni passanti ad accorgersi del veicolo e a lanciare così l'allarme. Inutile tuttavia il tentativo di soccorso operato dai sanitari del 118. La giovane sarebbe rimasta schiacciata dallo stesso veicolo che si è ribaltato. Per estrarre dal mezzo il corpo inerme della ragazza è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, un'operazione questa che ha richiesto qualche ora.